Ciao a tutti, oggi non farò né caffè né cappuccini, oggi farò un semifreddo con Simone e niente, facciamoli. Allora qua Simo sta separando i tuorli dall'albume. Nel mentre montiamo i tuorli, faremo uno sciroppo di caffè, quindi mettiamo 60 ml di caffè e 80 ml di zucchero. Facciamo sciogliere lo zucchero. Lo sciroppo deve essere a 121 gradi, vediamo. Una volta raggiunta la temperatura, mettiamo uno sciroppo di caffè e del tuorlo a filo. Ok. E adesso facciamo montare. Nel mentre che qua monta, Simone mi sta montando della panna con del mascarpone. Perfetta. Allora qua è pronto. Deve diventare così. Ok, adesso quello che c'è da fare è unire i tuorli con lo zucchero e il caffè insieme alla panna e al mascarpone. Mettiamo un po' di panna e al mascarpone. Iniziamo a mischiare dal basso verso l'alto. Ok. Adesso prendiamo dei bicchierini. Ok. Nella base metterò del crumble di mandorle. Io vedo quanto. Andiamo di semifreddo. Ok. Adesso metterò del cacao. Ok. Adesso metterò dell'altro semifreddo. E gli metterò una mezz'oretta in freezer. Nel mentre qua ho fatto una ganache a ciò che ho dato il latte. Ed eccoci qua. E facciamo l'ultimo strato di ganache. Ecco qua. Ultima cosa. Mettiamo un po' di crumble di mandorle. Ed ecco qua. I semifreddi sono pronti per essere degustati. E niente ragazzi. Io vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi. Mettete like. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.